Oggi parliamo con la professoressa Maria Martello che è stata per molti anni docente di psicologia dei rapporti interpersonali presso la Università Ca' Foscari di Venezia. Maria Martello tra l'altro è anche la ideatrice di un suo modello filosofico-umanistico, come lei lo definisce, dei conflitti. Ha scritto nel corso della sua carriera universitaria e accademica molti testi importanti sul tema dei conflitti e di recente ne ha pubblicato uno che si intitola Costruire relazioni intelligenti. Ecco mi sembra che il titolo già sia molto significativo, molto indicativo, cioè il titolo è fatto di tre parole ma tutte e tre molto dense. Allora si parla di relazioni che devono essere possibilmente intelligenti ma relazioni che devono anche essere costruite perché le relazioni umane non sono un dato naturale, se capisco bene, ma devono essere appunto costruite. Infatti il sottotitolo dice a relazionarsi si impara anche se, aggiungo io, purtroppo nessuno lo insegna. Ecco allora partiamo proprio dal titolo. Intanto cosa si intende per relazioni intelligenti? Che cos'è? Qual è una relazione intelligente? È una relazione che fa bene ad entrambi le parti ed è una relazione costruttiva che fa crescere entrambi. Quando una relazione danneggia qualcuno delle parti interessate allora è dannosa, non è intelligente. E la cosa importante è che purtroppo noi siamo immersi nelle relazioni, nell'oceano delle relazioni senza che abbiamo le competenze per gestirle bene e quindi nostro malgrado a volte subiamo comportamenti diciamo impreparati più che malevoli e a volte noi stessi facciamo subire agli altri relazioni dannose. Ecco questo è un circuito vizioso che noi vogliamo costruire con un circuito virtuoso dove ciascuno si sente in prima persona vincolato a un dovere verso se stessi e verso gli altri nell'imparare i passi di questa danza della relazione perché la relazione è una danza, è un'arte e il docente deve essere maestro in questa arte anche perché così indirettamente crea benessere nel suo ambiente di lavoro e forse anche a se stesso garantisce un benessere di vita. Hai detto una cosa molto interessante cioè costruire relazioni intelligenti serve anche a chi cerca di costruirlo quindi anche un po' una sorta usiamo questo termine di dovere verso se stessi cioè io ho il dovere di avere relazioni corrette anche per me stesso non soltanto per evitare di far stare male gli altri è così ho capito bene? Questo è il preliminare prima di tutto io ho un dovere nei confronti di me stesso vedi il lavoro dell'insegnante è un lavoro molto coinvolgente e prende molta parte della propria giornata credo che tutti i docenti si portino a casa un pezzetto di ciò che sulle relazioni è avvenuto il mattino a scuola quindi il te il la scuola invade il benessere di ciascuno ecco perché ognuno di noi ancora prima che pensare alle responsabilità di chi ci fa star male deve assumersi il compito di costruire lui relazioni che lo fanno star bene solo a partire da questo stato e può avvenire che il docente diventa un contagio parliamo di contagio visto che siamo in un periodo di pandemia un contagio questa volta positivo verso la creazione di relazione di relazioni di comportamenti costruttivi anche da parte degli altri in più un docente formato competente che ha consapevolezza delle abilità che occorrono per relazionarsi può diventare generatore di percorsi di formazione da offrire ai propri allievi ma direi anche i propri partner sul piano educativo che sono i genitori difatti questo libro è un libro che può essere letto sia dagli educatori docenti sia dagli educatori genitori quando una relazione educativa non funziona ma anche quando una relazione umana normale cioè anche al di fuori della scuola non funziona nasce il conflitto e come si esce da queste situazioni di conflitto cioè in che cosa lo studio della psicologia relazionale ci può aiutare per uscire dai conflitti ogni relazione forte e nella scuola le relazioni sono significative sono forti e incontra prima o poi il conflitto il primo desiderio è questo di uscirne ed è da qui che dobbiamo partire non bisogna avere fretta di uscire dal conflitto perché è fondamentale prima di tutto volerci entrare nel conflitto se capisco bene in sostanza io banalizzo molto ovviamente poi tu cercherai di dare invece dignità scientifica a questa mia affermazione un po un po tanto banale insomma litigare fa bene allora no litigare bene fa bene cosa vuol dire litigare bene allora innanzitutto significa riconoscere la voglia le paure che noi in un conflitto abbiamo e che ci portano a voler sconfiggere mortificare l'altro perché l'altro è un nemico mentre nel libro io presento l'importanza di riconoscere dignità al proprio punto di vista come condizione di partenza per riconoscere dignità al punto di vista dell'altro quando scatta l'ascolto reciproco dei punti di vista e soprattutto delle intenzioni degli obiettivi sottesi delle radici del conflitto allora lì c'è il desiderio da parte di entrambi le parti di trovare la via di uscita del rispetto reciproco la cosa interessante del libro non è tanto la presentazione di questa metodologia quanto il corredo di giochi ovviamente giochi psicologici sono delle attività concrete che io ho sperimentato nei miei seminari di formazione e che adesso presento ad ogni lettore perché sia un lettore attivo che attraverso questi giochi conosca meglio il proprio stato rispetto alle competenze relazionali e quindi diventa artefice della sua formazione perché vedi lo stile di stare nelle relazioni è uno stile personale e tale deve rimanere quindi questo libro è molto lontano dai quei volumi libri americani di istruzioni vincenti per l'uso quei libri illudono di dare delle ricette ma di fatto non smuovono non creano cambiamento nel lettore a scuola l'insegnante gestisce molte relazioni ma diciamo forse le due più importanti sono intanto ovviamente quella con l'allievo con la classe ma poi ci sono anche le relazioni con gli altri colleghi tu proponi anche delle attività per gestire le relazioni fra insegnanti che è un aspetto molto importante questo credo è anche col dirigente direi col dirigente con i genitori certo certo e e anche con i genitori quindi diciamo che le relazioni la scuola è un ambito di relazioni complesse perché anche quando si crede di relazionarsi solo con l'allievo di fatto l'allievo è portatore di una rete di relazioni familiari di cui magari non parla o parla poco ma che determinano il suo modo di stare a scuola quindi le relazioni sono tante complesse alcune visibili altre meno io non entro in questo libro nel merito delle singole perché vado alla radice del problema se io sviluppo le mie competenze relazionali poi le metterò in gioco nel mio privato quindi con mia suocera con mio figlio adolescente col mio vicino di casa e così le metterò in in atto anche nel mio ambiente scolastico quindi nel ruolo di docente e quindi di maestro di giovani di collaboratore con gli altri miei colleghi docenti di collaboratore con gli altri attori del processo di formazione dell'allievo quindi i genitori le altre agenzie educative e poi il territorio quindi questo questo volume diciamo pone la competenza plurale che poi ciascuno può attivare negli ambiti che desidera senti concludiamo con un piccolo giochetto allora un insegnante un bravo insegnante deve essere ovviamente competente sulle cose che insegna cioè insegnante di matematica deve conoscere la matematica questo è del tutto evidente non c'è discussione però poi deve anche essere capace ad insegnarla e anche questo è altrettanto evidente in più deve essere in grado di gestire le relazioni con la classe con i genitori con il dirigente come hai detto poc'anzi allora in questo disegno sulla base della tua esperienza in percentuale quanto vale la o quanto dovrebbe valere la capacità di gestire le relazioni allora innanzitutto senza accorgerti tu hai messo al primo posto la competenza nella materia di insegnamento al secondo la competenza nella didattica al terzo posto la competenza relazionale ecco questo ordine va assolutamente invertito primo primo è la competenza relazionale da cui discende l'apprendimento la qualità dell'apprendimento dei nostri allievi quindi dobbiamo capovolgere l'ordine un docente che è un incompetente o incontra delle difficoltà nel costruire relazioni forti vincolanti costruttive cooperative con i suoi colleghi o con il dirigente o con gli allievi non otterrà anche se è un bravo matematico ed è un bravo didatta della matematica non otterrà mai l'apprendimento ha auspicato nei suoi colleghi quindi al di là del giochetto che io ho proposto diciamo che sicuramente le competenze relazionali e al di là adesso dei numeri se valgono il 50 per cento il 45 il 58 però sta di fatto che tu ci ricordi che le competenze relazionali sono assolutamente fondamentali per costruire un rapporto con gli allievi con la classe per motivare gli alunni a imparare che poi è il nodo di tutto perché un alunno non motivato non imparerà mai è giusto ecco è giustissimo e se proprio vuoi una percentuale numerica visto che hai parlato di professore di matematica io ti dico la percentuale di efficacia della competenza relazionale è il 95 per cento qualche cosa del genere ha quel grafico sulla comunicazione che tu conosci sicuramente che dice il in una comunicazione l'efficacia per il 90 per cento e sul come è il 5 per cento sul cosa si dice tra l'altro anche martha nussbaum una persona stupenda che tu conosci sicuramente ha fatto un'indagine in ambito universitario con gli studenti americani dove ha messo in correlazione il loro successo scolastico con il percorso di formazione all'educazione alla relazione dove c'era dove veniva proposto questo percorso i risultati della materia di riferimento miglioravano io stessa ho fatto fare un esperimento a dei miei allievi con i bambini di scuola elementare di seconda elementare sui temi del conflitto abbiamo monitorato il livello di apprendimento dopo due anni nelle materie scolastiche e questa classe aveva veramente preso il volo grazie per questa bella chiacchierata e ricordiamo allora tutti l'importante è sapersi relazionare e per imparare per saperne qualcosa di più per imparare anche cosa si può fare per migliorare le proprie capacità relazionali soprattutto nell'ambito dell'insegnamento ricordiamo il libro di della professoressa maria martello che si intitola costruire relazioni intelligenti quindi non bisogna essere soltanto bravi a insegnare la propria materia o bravi nella propria materia è importantissimo maria martello dice vale al 95 per cento è importantissimo anche il campo l'ambito relazionale grazie ancora a maria martello per questa chiacchierata gray maria martello per questa chiacchierata